Il 21 novembre la chiesa di San Bernardo organizza il telegrinaggio alla terra santa a Gerusalemme per informazioni 416-618-8244. Il 24 novembre la chiesa di San Bernardo organizza il telegrinaggio al Fatima New York per informazioni 416-244-0321. Il 24 novembre la fondazione San Gerardo Maiella di Toronto organizza una serata di gala a Concord per informazioni 416-742-2180. Il 24 novembre il montato Kuro Club invita tutti all'annuale ballo d'autunno con una serata di gala a Toronto per informazioni 905-417-9382. Il 25 novembre siete invitati alla Theopoli Family Celebration Dinner in Etopico per informazioni 416-243-7139 o info a teopoli.com. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!